Ciao amici, oggi sono con Maria, è un giornalista italiana e attraverso Giusto? Bene, che cosa è successo, il motivo della visita? Quindi ho alcune parti Traduzio io, vai tranquilla, dove senti più dolore? In questa zona, cervicale Ok, questa è solo un occhio Poi, a volte qui Ok, quindi l'occhio è l'occhio Più da un lato o dall'altro? Ok, quindi più questa parte alta così Oh, questo è interessante Perché stiamo approcciando l'occhio e l'occhio Quindi questo è molto interessante Per me è la prima volta Ok, stai spaventato? Un pochino Allora, pronti? Facciamo una prova Brava, prova a rilassare la testa Bravissima Ok, finito Basta Ok, benvenuti al club Ci sei? Riprenditi un attimino È solo questo Come va? Ok, she got shocked Ma she's still with us She's still with us Ok Ok, other side Bravissima Finito Basta Ok Come va? Ok But that's enough It's a kind of experience She's experience that Is not painful And now she's going to relax And accept more The technique So that's normal We will start from the pelvis And we can do something else The lumbar vertebra So turn this side Vieni da questo lato Con calma Brava Cerchiamo la parte Che ci interessa A little test Ok Drop your legs Lascia cadere le gambe Abbandonatissime Così fuori dal lettino Tu non cadi Tranquilla Puoi fare una piccola ispirazione Ok Breathing And breathe out Perfetto Non relax Lascia cadere le gambe Brava, brava Abbandona, abbandona Ok Eccolo Fatto Tutto bene? Che paura Ok Piano piano Bene Lascia cadere tutto Ok Lascia cadere Perfetto Ok Let's try the rest Put down your legs Lasciale giù cadere le gambe Bravissima Adesso You don't bother me with your elbows Non mi dai fastidio con Con i gomiti Lascia tutto rilassato Bravissima Morbida Ok Andiamo avanti Bravissima Ok Andiamo avanti Brava L'ultima Ole Ci siamo Ok So we are approaching the neck Bene Così Fai fare tutto a me Lascia tutto rilassato Brava Più rilassata che puoi Benissimo Benissimo No, no, senza paura Brava Bene la prima And now Relax Perfect Ok Wonderful Hai visto? Tutto bene Stiamo andando alla grande Oh We got it Perfect Quante cose si possono scroppiare Oh my god So many cracks So many cracks On so many different parts Ok Wonderful Last one Ok That's enough She was asking about What's the meaning of this treatment And this treatment is useful Because it's a kind of regeneration of the body Because we are like a car We are like a machine So we have to restore something when we got some rusty And we are going to ruin our structure And then we have to improve our whole condition Pancia in Giù Vai Ok Hold on tight to the edge That's fine Ok Brava L'hai visto? Forte I'm mixing Italian and English now That's the consumments Ok let's go Brava Ci siamo She will just apply a pressure here on the sacrum Throw her feet Quindi userai i piedi piano piano Per sbloccare questa parte It's a kind of thrust like this one Just a very delicate and gentle approach Ok Very gentle Just a little Let's do this Yes Already open Yeah Yeah The sacrum lip joint That's fine Ok here we go Tu prova a rilassarti completamente Perfectamente Brava Che peso all'inizio però Bene così Come va? Doloroso? Bene No piacevole dai Si Oh ok Sta a paura però No 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 rilassata 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 Ok come a little more on the sacrum Yes a little more here That's fine Not an easy sacrum Yeah That's fine Perfect Ok here we go Yeah Yeah great Three Two One Go Yes Start release Oh Ok Thank you Alice That's fine Thanks so much Oh perfect Let's check the rest Yes I need Alice to do that because it's hard to do with my hands That's why I prefer to the feet because she can apply a most powerful thrust Let's check the rest Ok more relaxed More relaxed Ok Oh wonderful Wonderful Last one Ok breathe in And breathe out Bene Ci siamo Tu Da qui Lascia cadere la testa sulla mia mano Quindi rimani con le spalle così Però la testa deve cadere Palla un po' a cadere Brava Ancora di più Bravissima Devi far cadere su di me Bravissima Perfetto Oh benissimo Quindi rimani Vedi con le spalle così Rimani con i gommiti così Però la testa svenuta completamente So just keep straight The posture Leaning on the On the elbows And then We go Yes Wonderful Ok Brava Stessa cosa Con calma e delicatezza Dall'altra parte Brava Abbandona 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 Finito Brava Oh perfect Ci siamo Bene Adesso I'll approach just a bit here on the feet Ok relax relax Lascia cadere Morbida Ancora uno Ancora uno Ok last one Ok 3 2 1 Ok Ultimo resisti Resisti Don't give up Don't give up Last one Try to stand the last one Oh wonderful Bene Stiamo andando molto bene Ci siamo Più rilassata che puoi Morbida Morbida Brava Adesso rilassa Completamente Bravissima Morbida 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 Ok Tutto bene She's very scared But It's not painful I was just explaining And yes she's seen that it's not painful Even when you got a hernia or when you got an important issue it's not painful So it's a kind of relaxing treatment Abbandona completamente la gamba Dove tira indica con la mano Brava Questo è il muscolo psoas This is a stretching for the soft muscle Important muscle linked with the spine Ok A little more That's enough Brava Brava Lascia fare Viene un pochino per il centro Stiamo andando benissimo Bene Rilassa tutto Uno Due Tre Inspira Ok Benissimo Un pochino più doloroso Come va? Doloroso Doloroso Yeah That's painful Un po' troppo Vedi Rilassa Rilassa tutto Brava Non fare resistenza Bravissima Brava 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 Vedi che le uniche cose dolorose sono quelle sui muscoli Ma quelle sulle articolazioni non fanno male Vedi la differenza It's just painful when you approach the muscle Not the joint Ok Brava Tira sulla testa Brava Qui rilassati Giù È piacevolissimo Qua non ti devi spaventare di nulla Chiudi gli occhi Dormi Just close your eyes Yes Sleep And relax Trust me Fidati Trust me Ok Fidati Ok Sleep Ok Close your eyes Relax everything Yes Here we go I'm gonna show you We'll start from here Ti li faccio vedere un pochettino Andiamo con calma Brava Rilassa Rilassati Non ho più rilassata Brava Bravissima È piacevolissima Ok Ci sei? Come è andata? Ok Che hai finito? Good Crazy Thank you Thank you You're welcome Bene Giù giù Riprendiamoci Sì sì Prendi qualche secondo Dopo di questa tecnica È un pochino più forte Delle altre Come è andata? Che sensazione è stata? Tutto bene? È piacevole Once again on the muscle Ok Master muscle here Yes Once again Ok Little one Ok Ci sei? Prima così Open your mouth Brava Abbandona tutto Oh Qui è importante Rilassa Rilassa un po' la bocca Uno Due Ancora una Uno Due Brava Ci sei? Yeah Yeah Perfetto E adesso? Thank you Welcome once again Brava Perfetto Bravissima Ti ammorbidisco io Brava Brava Ecco ci siamo Ci siamo Abbandona Abbandona Bravissima Perfetto Ok Tutto bene? Lascia andare morbida Ti guido io Falla scivolare Brava Perfetto Ottimo Ammorbidiamo ancora un po' di più Yes Let's make it softer Perfect Ok Ci siamo? Alla grande Now I would like to approach the occiput Perché mi dicevi che il dolore lo senti proprio sulla base del cranio Sotto Sì però so paura Vabbè Eh lo facciamo piano piano She feels pain right here on this spot So the occiput Sì è questo punto proprio Non so il perché Vai con calma Facciamo insieme adesso Allora Tu adesso devi rilassare completamente la testa Lascia tutto abbandonato con calma Leviamo questo così c'è meno fastidio Abbandona la testa Bravissima Perfetto Abbandona ancora Brava Abbandona Abbandona Bene così Vedi che io ci metto una piccolissima trazioncina Brava Una piccola trazioncina Perfetto Bravissima Abbandona Abbandona Brava Ok Come è andata? It's hard to release the spot when you feel pain because it's inflammation So she was a... Yeah you collaborated enough She was good She helped me a lot Bravissima Bravissima Abbandona tutto Perfetto Se ce la fai rilassa ancora di più Brava Piccola trazioncina Ci metti tu rilassati Rilassati Brava Morbida Brava Eccolo lì Qua ci sei Hai visto? L'ambiente Sto bene? Sì Mi serviva questa parte qua Con calma Però devo testarti Tutti i tuoi punti Sometimes I have to test both sides And then approach the specific one Adesso Vieni un pochino più indietro Just lean back a little more Ok Lascia cadere il corpo Addosso a me Più rilassata che puoi Abbandonatissima Brava Tu rilassati eh Comoda 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 Lascia cadere completamente le spalle qua Abbandona il corpo Prova ad abbandonare ancora di più la testa Brava Finito Brava Oh Ottimo Ci sei? Sì Fatto Adesso sì che ci siamo C'ho proprio paura di sentire ancora più dolore Mai sentire dolore alla fine? Ma in realtà dopo mi sento me Però è lì quando c'è la cosa Eh ma c'è un problema Per quello che Senti si stipi con l'Italia There was a problem Adesso Lascia tutto completamente rilassato Brava Abbandona tutto Se ce la fai Benissimo Perfetto Lascia la testa rilassata Abbandonatissima Brava Abbandona Abbandona Perfetto Finito La morbida morbida Brava Mano qui Mano qui Bene Incrocia qui Ti aiuto io perché ti blocco io di là Brava Comoda 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 Benissimo Fammi controllare un attimo Perfetto Ci siamo Adesso Adesso Ti aiuto io qua Comoda Bene E ti puoi rilassare Allora Tieni le mani incrociate dietro Brava Ok Sì E rilassata Abbandona un po' il corpo Abbandona un po' il corpo Brava Così Perfetto Abbandona Ti puoi tu Tu resta abbandonata Bravissima Abbandona Abbandona Brava Perfetto Perfetto Tutto bene Basta torture Enough Enough torture Allora Prova un attimino a metterti in piedi E dici come ti senti con la cervicale Con la schiena Che sensazioni hai? Buona Tanto ti sono sopravvissuta No Forse feedback Yes Yes I'm a survivor I survive Poi come ti senti? Ok Bene Sì Tutto liscio? Sì C'hai una sensazione di leggerezza Però a descrivere Sì Di leggerezza sì C'ho una sensazione di maggior leggerezza rispetto a prima No Bene È andata bene come esperienza Sì She was so scared and Ok Yes No Non sono abituata Come cosa Però è andata bene Ok Piccolo saluto ai nostri amici 3 2 1 Bye bye Thanks for watching